Da una parte i contagi da Covid-19 che aumentano, soprattutto tra ragazzi e bambini. Dall'altra, la campagna vaccinale che prosegue senza sosta anche sui più piccoli, sia nel capologo messapico che in provincia. Nelle ultime ore, il contagio tra i bambini ha costretto il sindaco di Celia Messapica, Angelo Palmisano, a chiudere altre due scuole. Si tratta dei plessi del secondo istituto comprensivo San Giovanni Bosco, Giovanni XXIII. Il provvedimento firmato nella giornata di domenica 19 dicembre sarà valido fino a mercoledì 22. Lo stesso sindaco di Ceglie aveva disposto già la chiusura, il 15 dicembre scorso, di altre due scuole, vale a dire la scuola media Giovanni Pascoli e l'asilo comunale. Il sindaco, fra l'altro, ha dovuto anche sospendere la linea 3 e 4 del servizio di trasporto scolastico a seguito del contagio di un alunno della Giovanni Bosco che fruisce di tale servizio. Nel frattempo si svolgeranno ulteriori verifiche sanitarie da parte dell'Asla di Brindisi, ma Celia Messapica purtroppo non è una realtà a sé nella provincia. Provedimenti analoghi sono stati presi anche a San Pietro Vernotico, dove i casi di positività sono schizzati in una scuola dell'infanzia e dove i piccoli sono forzatamente rimasti a casa in vista delle vacanze natalizie. Diversi casi si registrano tra gli under 12 anche a Torchia Rolo e a Francavilla Fontana. Intanto proseguono le vaccinazioni proprio di questa fascia a rischio. Sono 1.160 le vaccinazioni effettuate sino a domenica 19 dicembre 2021. I contagi a tre cifre delle ultime ore a Brindisi e provincia devono richiamare l'attenzione proprio in vista delle festività natalizie. Le raccomandazioni sono sempre le stesse, afferma il dottor Stefano Termite, dirigente di prevenzione ed epidemiologia dell'ospedale Perrino di Brindisi, anche per i vaccinati che potrebbero sentirsi come giusto che sia sicuri della maggiore protezione. Durante le festività sarebbe buona cosa, dice Termite, utilizzare gli strumenti di protezione anche in famiglia, soprattutto dove ci sono bambini. Vista la grande affluenza per effettuare la terza dose, intanto la ASL ha comunicato di effettuare eventualmente la prenotazione presso i diversi canali, sulla Puglia di vaccina, i CUP o presso le farmacie. Grazie a tutti.